siamo in vetta al monte cistella finalmente conquistata benissimo 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 giornata mega galattica adesso mentre nessuno i gabriele mangiano sottoscritto bradipo che non ha ancora mangiato una minchia e non ha ancora bevuto nulla di che ecco che si mette qui a girare sto bel video panorama eccezionale merita veramente di essere di essere vissuta questa giornata però pensiamo anche coloro che magari vorrebbero essere qui ma sono a casa magari con la moglie che dice andiamo all'ipermercato che ci sono delle offerte grandiose e c'è ancora l'aria condizionata considerando che fa ancora un po caldino in montagna allora tutti la concentrati la a passare la giornata magari uscendo che c'è la luna piena tanto i supermercati sono aperti anche verso le 11 ma mentre noi siamo qui no disperati perché c'è tanto sole neanche una nuvola e ce la stiamo godendo un po un po tristi è un po tristi non per altro solo per le le quattro ore rotte che ci abbiamo messo ad arrivare qua e il 1500 metri di livelli più che ci abbiamo messo per arrivare qui ma ne sono varsi veramente la pena ammirate ammirate e godete insieme a noi questo mega panorama che consiglio vivamente di farlo questo girettino ma con una giornata splendida splendente come quella di oggi che direi che più di così non si può chiedere eccezionale eccezionale veramente bene bene